Allora siamo qua con Davide Canessa, centrocampista della Rapid. Oggi è stata una grande vittoria. Come i tuoi commenti di oggi Davide? Direi che è stata una partita molto difficile, ci siamo difesi molto bene e noi sapevamo che dovevamo andare alla fare dei punti. Ci siamo riusciti, secondo tempo con un bellissimo adedario, poi pre-assist, ma sono molto contento della squadra, sono molto contento dei sacrifici che stanno facendo e qualche mese fa abbiamo aggiunto pure un terzo allenamento e adesso cominciamo a vedere dei risultati. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, logicamente. E niente, continuiamo così, sperando di finire il campionato come dobbiamo finire. Grazie. Grazie.